Sono state molte le segnalazioni arrivate nei giorni scorsi in redazione di rovesci temporaleschi e di grandinate che hanno colpito la provincia di Alessandria, non ultima quella di ieri che ha interessato la quese. Queste equazioni improvvisi e violenti che mettono in ginocchio le coltivazioni e in generale il mondo agricolo che sta subendo danni un po' ovunque, hanno fatto sì che l'estate 2020 stia regalando temperature che da anni non si vedevano sul territorio. Nella prima metà del mese, il più caldo dell'anno, ad Alessandria le temperature non hanno mai superato i 33 gradi di massima e ben 9 sono stati i giorni in cui la colonnina è rimasta ferma sotto i 30 gradi. Anche a Torino, in generale in tutti i capoluoghi provinciali piemontesi, la situazione è pressoché identica con Cuneo che non è mai andata oltre i 30 gradi e con il picco di 34 ad Asti nella giornata di lunedì 6. Dalle previsioni in meteo e lungo periodo sembrerebbe che non ci saranno sostanziali cambiamenti per la restante parte del mese nella quale le temperature massime dovrebbero confermarsi sui 30 gradi, intervallate e proprio per quello tenute basse dai rovesci che si verificheranno quasi a cadenza fissa. Insomma, un'estate anomala che riporta agli anni 90, quando la sera non era inusuale uscire di casa con un pullover sulle spalle e dove il ventaglio eravamo abituati a vederlo solo nelle mani delle nonne.